Signore, dimmi cosa devo fare per fare davvero la tua volontà. Io ti vorrei servire, ma non trovo la via. Vediamo che è quasi pronta, eh? Sei magna! Amè, amè! Amè! Ancora, ancora, ancora. Sì, vedete? Basta chiedere, chiedete e vi sarà dato. Posso prendere una mela? No! Eh, non funziona mica sempre. Questo si chiamerà oratorio. Cosa? Oratorio, inizia, è un luogo dove i giovani possono andare e parlare ciascuno di Dio. Ricordati che soltanto i preti possono parlare di Dio. E che diceva la voce di Dio? Credo che mi dicesse che il mio posto è alle Indie. Ah, le Indie? Sì. E questi qua cosa fai? Te li porti con te? Dio, non fivarti di me, Gesù. Solo aiutami. Perché io da solo non ce la faccio. Il paradiso bisogna meritarselo. Con le pareghiere e le penitenze. Non certo cantando o ballando. Ma perché se ci vanno ballando o cantando, pieni di allegria, in paradiso non li fanno entrare. Oh! What? Oh! 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 Grazie per la visione!